In occasione del turno intrasettimanale del campionato di basket Serie C nazionale, la redazione sportiva di Speciale News ha preparato un'intensa giornata con la palla a spicchi, da vivere a l'ora di pranzo sino a notte inoltrata. Si parte alle 13 con anteprima diretta basket condotta da Mimo Siena con le anticipazioni e la presentazione della giornata con interviste in esclusiva. Dalle 20.50 la diretta delle gare con particolare attenzione per la trasporta della Castellano Udas a Trani contro la promozione di casa ed aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi. Grazie